Buongiorno, dobro jutro, guten morgen, buon day. Allora in queste vite non siamo come dentro un gubato, hai capito? Con la rete che ha voluto che gli fate delle tradizioni, di osservare, delle lezze, di obbedire, delle tasse, di pagare, hai capito dentro questo gubato? E, assieme al contenitore dentro, sicché gli artisti in qualche forma cerchino di farlo diventabile il gubato, con i pittori, con la musica e così. I predi, sdentri dal gubato, le favelli di una vite dopo dal gubato che sarà più biele di che dal gubato. Nessuno si è avvisato però che la portella dal gubato è via. E alla vigna di Cristo che smonta di non è fuori, non è daù di me, che vi faccio cercare una vita buona, plena. Hai capito e l'ho capito? Ecco ora che lui ha ripeto sempre queste vite, non si chiama la domanda che il gubato ha le vie. non si chiama, ma perché non si esce dal gubato? Perché la libertà ha lo dì. E si è responsabile e rischia. Hai capito? E si appora della libertà. Perché non si l'obbedi? Buona giornata e buona vita. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.